La Guardia di Finanza e Carabinieri di Reggio Emilia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone e alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di ulteriore 7, un obbligo di dimora e 3 misure interditive, di cui 2 nei confronti di 2 commercialisti. Tutti indagati per associazione a delinquere per reati tributarie, false fatturazioni, riciclaggio internazionale e autoriciclaggio. E' stato anche effettuato un arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto durante la perquisizione sono stati trovati 18 kg di hashish e 4 di marijuana. L'attività investigativa è stata denominata minefield, con 108 soggetti indagati, di cui 26 facendo parte di un'associazione a delinquere, e 81 società tra Emilia Romagna, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardie, Marche e Veneto, con perquisizioni e sequestri patrimoniali per oltre 10 milioni e mezzo di euro, mentre il giro d'affari scoperto è di più di 30 milioni di euro. Le attività di indagini hanno fatto emergere come tutto si basasse sulla commissione di reater tributari, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con una costante crescita dei cosiddetti utilizzatori coinvolti nell'articolato sistema di frode fiscale. L'organizzazione ha inoltre gestito un imponente giro d'affari nel più ampio settore della prestazione dei servizi, quali la cantieristica e la manutenzione di macchinari industriali e delle polizie, oltre che nel settore del noleggio di autovetture e del commercio all'ingrosso. Insomma, una costante infiltrazione nel tessuto economico regionale con la conseguente gestione criminale, con influssi sull'intero territorio nazionale ad opera del sodalizio, condotte da soggetti calabresi originari di Cutro, professionisti calabresi e campani, soggetti nativi di Reggio Emilia e altri originari della provincia di Foggia. Il meccanismo prevedeva la creazione di società cartiero, l'acquisizione di società realmente esistenti, poi destinate alle emissioni di false fatture, che venivano intestate a soggetti principalmente prestanome, e che agivano sotto le direttive loro impartito dai capi dell'organizzazione. Venivano quindi individuate ditte compiacenti, utilizzatrice del FOI, l'indice dei consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente, i cui titolari effettuavano bonifici pari all'importo delle fatture ricevute sui conti correnti e riferibili alle società del sodalizio. Denaro che successivamente veniva, sia attraverso numerosi prelievi giornalieri, sia attraverso bonifici o omissioni di assegni, riconsegnati agli stessi fruitori delle fatture emesse per operazioni inesistenti. Al netto delle percentuali stabilita per il servizio. Il gruppo, in alcuni casi, si è anche avvalso della percezione dell'indenità di disoccupazione naspi o ricorrendo indebitamente ai contributi pubblici stanzati durante l'emergenza pandemica del Covid-19.